amici di youtube ben trovati da marco liguori appena morto il grandissimo attore in questo video parliamo di una grave perdita che ha colpito il mondo del cinema un personaggio iconico e mancato nei giorni scorsi e prima di saperne di più vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 400 mi piace ne pubblicherò immediatamente uno nuovo in questo video ricordiamo un grande personaggio che ha perso la vita a 86 anni e con grande rammarico che il primo anni marco liguori annuncia il decesso dell'attore americano ron eli è stato il primo storico tarzan nella storia della televisione interpretato il signore della giungla nel 1966 per gli appassionati sarà ricordato per sempre come il primo tarzan probabilmente uno dei più amati di tutti i tempi il decesso di ron eli è avvenuto il 29 settembre ma la famiglia ha annunciato la scomparsa soltanto nelle scorse ore in questo video vogliamo parafrasare le toccanti parole della figlia kirsten casale eli che ha voluto ricordare il leggendario padre con le seguenti e meravigliose parole il mondo ha perso uno dei più grandi uomini che abbia mai conosciuto e io ho perso mio padre mio padre era una persona che la gente chiamava eroe è stato attore scrittore padre di famiglia e leader ha creato una potente ondata di influenza positiva ovunque sia andata con queste meravigliose parole ricordiamo il leggendario ron eli il primo tarzan della storia della televisione che possa riposare in pace amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi anche sul secondo marco liguori il canale dei video di cronaca seguitemi anche sul nuovo canale marco liguori psicologia e crescita personale ciao